Adesso ho il piacere di presentarmi, sono Fabio Antichi, ero capo piccino in un'azienda metameccanica, ma scoprì che lavorare in un'azienda metameccanica era veramente faticoso. Quindi era un lavoro molto bello, ma dissi ma sai, se trovassi un lavoro che si fa da seduto mi garba di più. Erano gli anni in cui si attiva parlare di SEO, quindi decisi di andare a fare la SEO, avevo la fortuna che insomma avevo una rete di conoscenze, quindi cominciai nell'azienda più o meno di famiglia, la Gigi Service, poi fui contattato da Fortop, un'azienda a cui davo moltissimo perché mi ha insegnato tantissimo del lavoro che sto facendo. Dopo una bellissima esperienza lì ho deciso di cambiare percorso, adesso sono in Divix, in provincia di Pisa e insomma mi diverto un sacco a fare queste cose, a cercare di fare il 101% di chi sta vendendo online. Questo mondo è un mondo particolare perché la formazione non finisce mai ma ha un aspetto molto bello, appena impari qualcosa quella cosa cambia. Il mio motto, citazione mission che mi sono dovuto in qualche maniera tirare fuori ho pensato subito ad Asimov e alle leggi dei robot perché appunto per me l'intelligenza artificiale è nata così, con le prime letture adolescenziali dei bellissimi libri di Asimov.